Attenzione, 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 una mucca sul tornante! Comunque è bello come io spiego cose interessanti e scientifiche e tu una mucca, una mucca, una mucca sul tornante! E c'è una mucca sul tornante! Guarda, guarda, quante! Anche se la gente povera è altra, noi siamo benestanti! Beh, esatto, sì, dai, mi come! Beh, dai, le cose che vogliamo fare le facciamo quasi tutte! Stando attenti, un po' risparmio, un po' supera l'1 colombo, attenzione, come la passa! Sono le 5, il traffico ce n'è poco, direi che si può un po' fare un po' di bagarre l'1 per dare un po' di emozioni a questo video di lamentele continuo e sulla condizione dell'asfalto. Anche se non so che altezza c'è la dogana, vorrei evitare di arrivargli là a cannone come un proiettile! Attenzione! Restringila di più, amore, la prossima volta! Cosa? Non so, è allastrata talmente tanto che poi non... cioè, non è neanche tornato dalla sua parte, capito? Ha continuato nella mia corsia! Guarda che c'è un rudere! Mmm, senti che buon odore di freni bruciati! Sì, penso che c'è da un rudere in cima alla montagna! L'ho visto, l'ho visto! Oh, qua! Cielo azzurro, montagne, strada decente! Cosa si può volere di più dalla vita? Grazie, grazie! All'alba delle 5! Incredibile, veramente! Beh, dai, le due stradali erano divertenti! Sì, dai! Il resto, mamma mia, che strade, che strade! Cioè, l'anno scorso Moncenisio, Izeran... Beh, a parte il col della Madeleine... Galibie del primo giorno erano tutti... Bell'asfalto! Guarda come scava giù l'acqua! Sì! Eh, ma qua probabilmente una volta c'era il ghiacciaio, eh! Sì! Eh sì, in tutte queste valli qua... Cioè, nel senso, la maggiore parte delle valli alpine sono state scavate da ghiacciai! Considera che... Cioè, nel senso, alcuni... Come qui, come vedi quello del Furca, del Rodano... Cioè, il ghiacciaio che c'è al Furca si chiama Rön Glacier, perché è il ghiacciaio del film Rodano... Quello fino a 50 anni fa era clamoroso ancora quanto era grande... Non urlerò ciao fans per non farla sentire l'imbarazzo... Grazie! Prego! Comunque siamo appena entrati all'ingresso... Siamo entrati all'ingresso del ghiacciaio del Rodano... Quindi sul Furca Pass... Buono velo al comodo! Siamo per entrare nelle grotte di ghiaccio... Siamo per entrare nelle grotte di ghiaccio... A posto così... Andiamo! Vai! Oh wow! Pansi siamo al Furca Pass nel ghiacciaio del Rodano... E' freddo! Che figata però! Peccato che 300 anni non ci sarà più... Ah tanto tra certi anni non ci sarà più di più che lui... E' infatti! Siamo arrivati in fondo alla grotta... Guarda qua! Bandiera della Svizzera... Due cubetti di ghiaccio per farsi un bel gin tonic... Qua ci sta un show fans molto percontente... Che rimbobba tutto... Dici che cade? E' freddo? Sì sì eh! C'è tutto il mare di ghiaccio! Comunque spettacolo! Perché Luna Columbo esce dalla grotta! Wow! È un po' di caldo in qua qua! Uff! Mentre tantissimi ghiacciai si sono sciolti alla fine dell'era glaciale... Quindi comunque... Cioè tu non li avresti visti... Cioè anche senza il riscaldamento globale dovuto dall'inquinamento diciamo... Si sarebbero comunque sciolti... Proprio per quelle fasi cicliche di surriscaldamento e raffreddamento... Che ci sono sul pianeta Terra... Attenzione attenzione attenzione! Una mucca sul tornante! Comunque è bello come io spiego cose interessanti e scientifiche... E tu? Una mucca! Una mucca! Una mucca sul tornante! E c'è una mucca sul tornante! Guarda guarda quante! Guarda come mangiano l'erba! Sì ma poi come fanno a recuperarle? Guarda qualche spanata di merda che hanno fatto in curva! Sì! Eh vabbè forse che scappano! Non hanno una recinzione! Ma dove vanno? Scappano e dove vanno? E non scappano! Poi come fanno a recuperarle? Ah questo non lo so! Cioè... Faranno l'appello e qualcuno mancherà sicuro! Saranno mucche libere? Aspettate che c'è la curva! Non c'è nessuno! Ho visto da prima che non c'era nessuno! Cos'è sta roba? È un... Coda... Un... Coda... Ah guarda sotto! Figata! Bellissimo! Sì! Ma scusa un attimo... Vai Luna vai 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 vai! È normale che il display qua davanti della GoPro si veda all'incontrario? Perché quando è accesa si vede che è partito al contrario! Cioè basta che quando edito il video lo giro di 180 gradi! Stai esterna? Esterna! Esterna verso il muro? Verso il muro! Esterna verso il muro! Ma cos'è? Guarda quella roccia là! È un... È un cazzillo! Sembra un pene! Per te ogni cosa assomiglia a un pene! Anche... Anche Davide me lo diceva! Guarda i cavalli! Guarda i cavalli liberi! Che belli! Insieme alle mucche! Guarda fino a dove sono andate su! Ma fai te per quello che dico! Ma dopo come fanno a recuperarle buh? Mandano i cani! Eh buh! Chi lo sa! Fansa se qualcuno alleva le mucche e ci scrive nei commenti come si fa andare a recuperarle! Ci fa un piacere perché... Altrimenti Luna fa tutto il viaggio a chiedermi chissà come fanno a recuperarle! Comunque si sembra proprio anche la forma della c***a alla fine! È bello che indico clamorosamente ma non mi vedo! Cioè è proprio zero! Madonna che bello qua! Guarda c'è un punto panoramico amore! Fermati al punto panoramico! Guarda che mi giro! Gradino però! Posso venire a piedi? Cosa vuol dire puoi venire qua a piedi? Eh vengo lì a piedi! Ma cosa vuol dire? Eh perché c'è il gradino per girarmi e non me la sento! Ma f***a! Che imbramata! Vabbè ma non era per fare la foto era per guardare giù eh! Perché non per fare la foto? Facciare la foto perché c'era già un ragazzo... Eh allora vieni con la moto per fare la foto! No no! No no! Vabbè! Posso lasciare su tutto vero? Su tutto coso... E spegni la GoPro perlomeno! Ecco lo zai non posso lasciare? Ma non puoi portartelo? Eh sì! Sbam! Madonna bellissimo qua! BESCIA! Vuolevi una foto? Eh sì ma non ho voglia di mettermi su... Non la voglio con solo 360 in test! Capirei che fatica! Basta che parli, acela è la bocca! C'è un po' più indietro! Al 3 di Puzzi! 3, 2, 1! Puzzi! A few moments later... Ciao fans! Ciao fans! Siamo in cima, quasi in cima, al colle dell'agnello! Ho appena scoperto che la 360 non ha filmato per tutto il giorno per un problema con la microSD! Molto bene! Siene sempre... Ci sono sempre delle novità! Bello! Adesso però vi faccio vedere giù il paesaggio che è una figata stratosferica! Tac! Vista col grand'angolo! Guardate come sono alte le montagne! Bello! Ciao fans! Siamo in cima, al colle dell'agnello! Storia per Instagram questa! Guardate qua! Puzzi! Sì, tu però... Tu Puzzi! Beh, andiamo!